Musica A voi tutti buonasera e bentrovati a Montemurlo in forma, la nostra rubrica settimanale dedicata al Comune di Montemurlo. Anche questa sera tanti temi al centro della nostra puntata, dalla sanità al turismo fino ai lavori di manutenzione sul territorio. Iniziamo proprio parlando di sanità, in particolare della riforma del 118. Dallo scorso lunedì 30 gennaio sono state tolte 12 ore di ambulanza infermieristica, una decisione che è stata presa dalla ASL e che non è andata giù al sindaco Simone Calamai, che ha preso la notizia tramite una pecca arrivata alcuni giorni prima, senza alcun piavriso rispetto a quella che era la riorganizzazione del servizio di emergenza, urgenza prospettato in precedenza, ossia con la presenza sul territorio di un'ambulanza infermieristica per 24 ore al giorno. Nei giorni scorsi c'è stata un'apertura, c'è stato un confronto tra il sindaco e i vertici dell'ASL, durante il quale il sindaco ha ribadito quelle che sono le sue preoccupazioni rispetto agli effetti di questa riforma del servizio di emergenza territoriale. Sentiamo. Dallo scorso lunedì 30 gennaio a Montemurlo i servizi di emergenza territoriale hanno a disposizione per sole 12 ore di urne l'ambulanza con infermiere. La restante parte della giornata è coperta da un'ambulanza di base gestita dai volontari. Una decisione che ha suscitato la reazione contraria del sindaco Simone Calamai, che ha preso la notizia da una pecca arrivata alcuni giorni prima. Nei giorni scorsi è partito il confronto tra l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria. Il primo cittadino ha infatti incontrato i vertici dell'ASL e ha espresso le sue preoccupazioni rispetto agli effetti della riforma. C'è stata una prima apertura che accogliamo con soddisfazione rispetto a una prima riforma che aveva visto ASL provvedere in solitudine. In questo incontro abbiamo avuto modo di condividere quelle che erano le nostre perplessità rispetto alla riorganizzazione che è stata data. C'è disponibilità da parte di ASL ovviamente a aprire un confronto con il comune di Montemurlo per verificare quelli che possano essere risultati di tali modifiche. Quindi avremo modo settimanalmente di vedere quelli che sono i dati. E poi ci siamo dati incontro tra circa un mese proprio per arrivare a fare una riflessione più completa e definitiva su quello che può significare la riforma sul sistema emergenza del nostro territorio. Ovviamente questo per noi è un primo punto, le perplessità che abbiamo avuto rimangono. Pensiamo ovviamente che il sistema di emergenza debba essere fatto in un certo modo che garantisca la velocità e ovviamente la qualità delle prestazioni. In questo senso sicuramente i dati che saranno disponibili su questi primi giorni, su queste prime settimane di attività potranno essere un luogo da cui puoi partire per quelle che sono le nostre riflessioni. Quindi in questo senso sicuramente un passo in avanti, una disponibilità anche di regione toscana a lavorare su quelli che sono i servizi di tipo socio-sanitario sul nostro comune. L'appuntamento è dunque tra un mese per verificare, dati alla mano, gli effetti della riforma dei servizi di emergenza territoriale. Le priorità per il sindaco Calamai restano sempre la sicurezza e la salute dei cittadini. Un insieme di temi che si intrecciano ma che devono andare in un'unica direzione che per me è fondamentale. L'ho detto con chiarezza, ovviamente la salute dei nostri cittadini è la nostra priorità e al centro non può essere messa in discussione da nessun tipo di esigenza. Sappiamo bene che ci muoviamo in una situazione e in un quadro che vede risorse carenti dal livello nazionale nei confronti delle regioni stesse per quello che sono i sistemi sanitari. Però in questo quadro dovremo riuscire a mettere veramente a frutto tutte le risorse che abbiamo a disposizione per garantire i servizi sempre migliori e sempre più efficienti. Parliamo adesso di turismo, di un nuovo tipo di turismo che è quello industriale. Lo scorso fine settimana ha fatto tappa a Montemurlo Tipo, il progetto dedicato appunto al turismo industriale per un vero e proprio viaggio nell'innovazione nel tessile. Ha fatto tappa a Montemurlo Tipo, il progetto dedicato al turismo industriale. Sabato scorso i visitatori hanno potuto fare un vero e proprio viaggio alla scoperta del meccano tessile in tre aziende d'eccellenza del distretto montemurlese, Unitec, Accopiatura Pratese e Pentec. Occasioni preziose per scoprire il territorio da un punto di vista diverso, quello del lavoro appunto. Con questa edizione continuiamo a raccontare le nostre fabbriche, le fabbriche del territorio che sono valore aggiunto per un territorio. È vero che il distretto tessile ha alcuni problemi ma è anche vero che c'è la necessità di raccontare quello che funziona. Con il progetto Tipo andiamo nelle fabbriche e conosciamo le aziende, il loro lavorare nel benessere del dipendente, e non solo perché si parla di ambiente, di rispetto dell'economia circolare e del rispetto del dipendente stesso. Per questo abbiamo fatto tappa a Montemurlo in alcune aziende che sono leader nel loro campo, nel meccano tessile, perché a parte la qualità del lavoro all'interno dell'azienda, l'obiettivo è fare un prodotto nel rispetto del clima e non solo. Per questo un nuovo modo di fare azienda. La storia del meccano tessile a Prato è antica e importante. Già nel primissimo dopoguerra l'ingegno dei meccanici pratesi fu messo alla prova per la ripartenza del comparto tessile, gravemente danneggiato e in parte distrutto dai guastatori tedeschi, dai bombardamenti e dalle devastazioni durante il passaggio del fronte. Oggi il meccano tessile pratese è un'eccellenza nel mondo e proprio nel distretto tessile montemurlese si trovano alcune tra le aziende leader a livello mondiale. Tra queste anche la Unitec, una delle tre aziende vincitrici della tredicesima edizione del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che la città di Prato conferisce alle realtà del distretto capaci di avere successo nel piano rispetto delle regole, della concorrenza e dei diritti dei lavoratori. La Unitec, una di queste aziende che in questi anni ha investito tantissimo nell'innovazione, sarà premiata sabato con lo Stefanino d'Oro. Per noi è un grande orgoglio avere un'azienda sul territorio che rispetta le regole che gli hanno permesso di vincere lo Stefanino. Proseguono sul territorio i lavori di manutenzione straordinaria, una serie di interventi che hanno interessato in particolare l'area esterna qui al plesso scolastico di Morecci, ma anche il parcheggio del cimitero di Rocca e poi un nuovo impianto di illuminazione su un attraversamento pedonale a Bagnolo. Risistemazione del parcheggio del cimitero di Rocca, risoluzione del problema dei ristagni d'acqua davanti al plesso scolastico di Morecci e nuovo impianto di illuminazione di un attraversamento pedonale in via alla Briola. Piccoli ma importanti interventi di manutenzione straordinaria che l'amministrazione comunale di Montemurlo ha portato a termine nei giorni scorsi. In particolare sono da poco terminati i lavori del parcheggio del cimitero di Rocca, voluti dal Comune per migliorarne l'accessibilità. L'amministrazione ha proceduto con il ristanamento di tutta l'area che presentava avvallamenti. Attraverso l'intervento della partecipata Consiag Servizi Comuni, tutto il parcheggio è stato risistemato così da migliorare l'accessibilità per pedoni e veicoli. Risolto, come detto, anche il problema dei ristagni d'acqua di fronte al plesso scolastico di Morecci, dove il Comune ha realizzato delle nuove canalette di scolo dell'acqua piovana e installato delle griglie metalliche per evitare che foglie e terra possano struire il deflusso della pioggia. È stato inoltre realizzato un nuovo manto d'asfalto tra l'ingresso della primaria Alberto Manzi e quello del nido Tata Badà per favorire il deflusso dell'acqua piovana ed evitare i ristagni. Prosegue con forza l'attività di manutenzione straordinaria, anche di piccole criticità, che portiamo avanti con costanza proprio per poter migliorare sempre quella che è la qualità, il decoro del nostro territorio, in particolare in questi ultimi giorni ci siamo concentrati su alcuni spazi esterni di luoghi che sono significativi e centrali per la nostra comunità. Penso ad esempio alla risistemazione di quello che è il parcheggio esterno al nostro cimitero comunale di Rocca, dove si è voluto adeguare e mettere in sicurezza da ristagni d'acqua e da alcune piccole criticità presenti rispetto all'uso ovviamente che consente questo luogo sia nei confronti del cimitero che nei confronti di quelli che sono gli eventi e di quello che è la vivibilità della nostra collina a Rocca o ancora penso agli spazi esterni della nostra scuola primaria Manzi o dell'asilo nido Tata Badà a Montemurlo, dove anche qui abbiamo provveduto a risolvere problemi di ristagno, criticità di acqua persistente rispetto agli ingressi di queste scuole stesse. Quindi ecco un insieme di interventi che vogliono ovviamente migliorare la qualità della vita dei cittadini a partire dalle piccole cose, consapevoli che proprio in questo modo ovviamente possiamo migliorare quello che è il volto ma quello che è la funzionalità e la vivibilità del nostro territorio. Infine a Bagnolo in via Labriola è stato acceso un impianto di illuminazione su un attraversamento pedonale rialzato così da garantire maggior sicurezza per tutti i cittadini. Con attenzione alla sicurezza ad esempio è stato acceso proprio in questi giorni un impianto di illuminazione su un attraversamento pedonale rialzato a Bagnolo in via Labriola che da tempo ad esempio veniva segnalato come un punto pericoloso all'attraversamento da parte dei pedoni. Quindi ecco una volontà di andare incontro anche a piccole criticità con l'intento ovviamente di migliorare sempre di più quello che è il volto e la fruibilità del nostro territorio. Ed è il momento dell'agenda, vediamo insieme gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni a Montemurlo. Sabato 4 febbraio alle 10.30 la biblioteca Bartolomeo della Fonte Mentre tutti dormono, animazione alla lettura per bambini dai 3 agli 8 anni. Domenica 5 febbraio alle 17.30 la Salabanti Il Cinema da Ascoltare Un viaggio nelle più belle colonne sonore dei film Sul palco sarà Ruoti, Luca Moriani, Luigi Gagliardi Il mago Francesco Meraviglia e il piccolo coro del Cinema da Ascoltare Da sabato 4 al 19 febbraio alla Salabanti La nostra impressione mostra fotografica sulla 31esima edizione del corteggio storico La mostra è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 L'inaugurazione dell'allestimento è in programma per sabato 4 febbraio alle ore 16 Con premiazione dei vincitori del concorso fotografico E con l'agenda è tutto Montemurlo Informa per questa sera termina qui Ci vediamo tra 7 giorni con nuovi approfondimenti dedicati al Comune di Montemurlo Grazie per averci seguito e arrivederci Grazie per averci seguito e arrivederci